Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, anche nel secondo semestre del 2010 è stato confermato il primo cittadino più amato d'Italia. Ma tra i sindaci di casa nostra, quello di Bari, Emiliano, ha fatto un piccolo balzo in avanti, salendo dal dodicesimo all'ottavo posto. A renderlo noto è la quattordicesima edizione di Monitor Città, realizzato da Full Research. Lo studio, realizzato ogni sei mesi, rappresenta solo gli amministratori che hanno superato la soglia del 55% di gradimento. Renzi ha incassato dai suoi concittadini il 68,1%. Nello studio c'è anche una novità. Il sindaco di Firenze deve fare i conti con il suo omologo di Verona, Flavio Tosi, che lo ha raggiunto, ottenendo la stessa percentuale di gradimento con un salto in avanti di 2,2 punti percentuali. Ma ora guardiamo le posizioni dei sindaci di casa nostra. Michele Emiliano, sindaco di Bari, ha guadagnato quattro posizioni, passando dal dodicesimo all'ottavo posto. È rimasto invece al ventiquattresimo il primo cittadino di potenza, Vito Santarsiero, con il 58,6% di gradimento. Trentesimo posto per il primo cittadino di Taranto, Ippazio Stefano, con una percentuale di gradimento pari al 56,3%. Infine, il capitolo gradimento sulla qualità dei servizi erogati ha confermato il primo posto alla città di Bolzano, seguita da Trento e Belluno.